Quando ho visto arrivare il pallone lì ho subito pensato che se fossi riuscito a impattare il pallone sarei riuscito magari a prenderla a porta, quindi ci ho provato, è andata bene. I ragazzi sono bravi al di là del minuto in cui si segna, è normale che vincere aiuta a vincere, i ragazzi sono in fiducia, ci credono sempre fino alla fine, è stato bello anche perché oggi c'erano in campo quattro titolari, quattro giovani cresciuti nel nostro settore giovanile e questo dimostra la bontà degli investimenti che questa società fa e ha fatto negli anni. Insomma è una competizione che ti ha dato la possibilità anche di vedere da vicino e dal vivo dei ragazzi interessanti. Sì, è chiaro che giocando spesso ed avendo qualche problema in qualche ruolo ha permesso a me e ha dato la possibilità a questi giovani di poter avere spazio e devo ammettere che sono stati bravi, è chiaro che devono crescere, però insomma sono esperienze importanti e formative per loro. Da anche oggi è risultato decisivo un giocatore che è entrato a partita in corso? Lo dico sempre, la bontà, la qualità di questa rosa ci deve fare entrare nell'ottica che i cambi soprattutto in questa categoria possono fare la differenza di quello che sta succedendo e di quello che dobbiamo continuare a fare.